Sempre detto, lo ripeto, la focaccia è quello dove si fa? Ma gente non capisce, non ce ne metto il fagorino E basta questo fagorino Comunque, oh ciao Gianni Come va? T'apposto i piccirini? T'apposto? Eh mi raccomando, sono tu matto buchiero Ok, ciao ciao Allora, stavo dicendo Sì, beh E appunto Questa focaccia Musco dai